Se venduti sul mercato parallelo avrebbero fruttato guadagni illeciti pari a 350 milioni di euro, ma anche seri rischi alla salute dei bambini che ne sarebbero venuti in possesso. I baschi verdi della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato in un capannone nella zona industriale, zona est di Napoli, oltre 75 mila giocattoli privi dei marchi comunitari. Il materiale destinato con molta probabilità ai negozi e ai mercatini rionali era nascosto all'interno di un container occultato in un parcheggio. I finanzieri hanno riscontrato sulle scatole degli involucri i marchi falsi di case produttrici internazionali e di serie cult americane. La merce al momento del sequestro era pronta per essere confezionata e inserita nei circuiti di vendita. Nel corso dell'operazione è stata anche denunciata una cittadina di origine cinese, già nota alle forze dell'ordine, per analoghi precedenti penali. La merce sequestrata sarà distrutta.